E' incredibile, da un po' di tempo faccio dei sogni, sì, dei sogni strani. Sogni strani? Sì. Che intendi? Beh, sogno un sacco di gente che fa l'amore. Così al mattino mi sveglio sempre eccitata. Oh, e cosa succede esattamente nei tuoi sogni? Oh, sai, nei miei sogni? Ci sono sempre situazioni di sesso in cui la gente gode tantissimo. E' bello, ma mi eccita troppo. E sogno solo uomini con donne? Oh, no, anche donne con donne. E questa cosa ti piace? Beh, direi che vorrei provarlo. Non l'hai mai fatto? No. Non l'hai mai fatto l'amore con una donna? No, ma vorrei tanto provare. Ne sei sicura? Certo. Non l'hai mai fatto.